Lega Ambiente Abruzzo ha presentato questa mattina a Pescara il rapporto Pendolaria 2021 in cui è illustrato la situazione del trasporto ferroviario nella nostra regione ai tempi del covid ma anche della mobilità urbana e qualità dell'aria per città meno inquinate più vivibili e le scelte per fare della next generation la svolta green per il futuro degli abruzzesi. In linea di massima il dato medio nazionale ci dice che è in crescendo ovviamente ci sono dei distinguo in quanto per esempio la nostra regione risulta ancora penalizzata ovviamente molto inciso dal punto di vista della pandemia che stiamo attraversando ovviamente la riduzione dei passeggeri all'interno dei treni e tutte quelle situazioni che hanno aggravato un po' la situazione diciamo sanitaria in essere ovviamente danno un contributo negativo in questa direzione però bisogna fare di più bisogna mettere in campo delle politiche integrate sulla mobilità sostenibile anche la regione può fare la sua parte e chiediamo che da questo punto di vista si incida soprattutto dentro le città perché dentro le città noi possiamo ottimizzare la mobilità spingere su quella mobilità alternativa che ci permette di dare un ampio respiro alla qualità della vita dei cittadini perché purtroppo dal punto di vista della qualità dell'aria abbiamo ancora un dato fortemente negativo che parla di circa 50.000 morti l'anno premature legate proprio alle emissioni che avvengono soprattutto dal traffico veicolare e dalle altre realtà inquinanti che incidono in questa dimensione. I dati Arta confermano intanto un miglioramento dell'aria anche nella città di Pescara. I dati sono in miglioramento in un'ottica generale possiamo dire che l'Abruzzo gode di un'ottima salute. La nostra rete fissa di monitoraggio rileva dati che vanno sempre attenzionati ma che comunque non comportano sforamenti anche per le previsioni di legge di notevole entità. L'Abruzzo come dicevo gode di ottima salute e qualche attenzione in più nella città di Pescara ma non tanto per gli elementi inquinanti di carattere chimico quanto per le polveri sottili che possono essere conseguenza anche di fattori atmosferici o di sabbie africane. grazie